tutto è possibile se non sai di cosa stai parlando arthur bloc sottile autore americana statunitense questo è il vero motivo per cui l'ignoranza è così pericolosa per sé e per gli altri è proprio il fatto di non conoscere le cose che ti porta a sentirti libero di dire e proporre qualsiasi intervento su qualsiasi cosa siccome non ne sai niente vai avanti tranquillamente perché tanto non rischi di sbagliare perché per sbagliare dovresti avere delle idee dovresti avere una conoscenza di ciò di cui stai parlando per cui ti limiti ad andare dietro a tue fantasie per cui invece che affrontare un problema e ragionare raccogliere tutti gli elementi metterci la tua passione e cercare una soluzione realistica anche un po oltre la semplicità banale delle cose ma comunque riferita alla realtà ti limiti a fantasticare di cose tue quindi è molto pericolosa questa situazione perché non porta verso un risultato ma solo verso una forma espressiva e interessante gratificante per te ma pericolosa per tutti quelli che stanno attorno quindi questa volta viene riferita personaggi che vogliono comandare talora anche a personaggi politici o comunque anche a dirigenti a persone che credono di sapere ma diciamo che merita tenere sempre in considerazione il fatto che tutto è possibile se non sai di che cosa stai parlando